buongiorno a tutti questa è la situazione presso l'isola ecologica di via padre colpe non so quando si decidono a smaltire tutta questa montagna di materassi vediamo anche delle gomme un compattitore delle gomme piene questa è la situazione attualmente presso l'isola ecologica abbiamo due compattitori uno pieno di ceramica che va da due tre mesi a questa parte e hanno portato un altro vuoto per non smaltire magari quello vecchio questa è la situazione che abbiamo presso l'isola ecologica questa si chiama isola dello smaltimento magari invece qui questa è la situazione allora io mi chiedo dove vadano a finire tutti i soldi che noi paghiamo la tarra la spazzatura tutte quelle cose la questa è la situazione e non ci sono scuse magari che uno se la prende con il sindaco che uno se la prende con l'amministrazione perché qui stiamo parlando solo esclusivamente dell'azienda l'amministrazione comunale non c'entra assolutamente secondo me tra parentesi niente questa è la situazione attuale grande biceglie grande 2.0 grandi tutti veramente grande